Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo un'altra maglia retro, l'avrete già riconosciuta. Questa è la maglia, la terza maglia dell'Inter Milano per la stagione 97-98. Questa è la maglia, la terza maglia. La maglia è stupenda, fantastica. Come detto, la maglia del fenomeno, uno dei miei giocatori preferiti. Nella mia classifica prende 4 stelle, ottima qualità, ottimi i tempi di spedizione. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere? Parla da solo, fate i vostri ragionamenti e poi decidete voi cosa fare. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però aiutateci a far crescere il canale. Lasciateci un like ma soprattutto iscrivetevi. A voi non costa niente ma a noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.